Sono Alessandro Valera, direttore di Ashoka Italia. Ashoka è la più grande rete al mondo di imprenditori sociali, ma sempre più anche nella rete di chi vuole cambiare il mondo a partire dal proprio contesto. Per questo è stato importantissimo oggi essere qui alla Fondazione Mondo Digitale insieme ad Alfonso Molina, che è uno dei nostri fellow, i nostri imprenditori sociali più importanti, lavorare direttamente con i ragazzi che lui cerca di coinvolgere e soprattutto con i ragazzi che non hanno ancora ben chiaro quale sarà la direzione che vorranno prendere in futuro e cercare di aiutarli a intraprendere una strada che possa attraverso l'imprenditoria sociale portarli a risolvere alcuni dei problemi sociali o ambientali che stanno più vicini a loro.